This is heaven Una carriera molto importante intanto perché è tornata la serie B su FIFA 23 dopo tanti anni Una serie B che sicuramente ci darà tanto, diciamo, non so come dire, ci darà tanto E niente, non sono più abituato a fare i discorsi pre-set, ok? Chi se ne frega La serie B che torna su FIFA 23, che ci dà l'occasione di nuovi progetti, nuove sfide E ovviamente aspettavo questo momento perché da ragazzo che ha incominciato a fare i primi video Nella sua cameretta da letto di Como Era nella mia testa l'idea di fare prima o poi una carriera con il Como Ma non era mai possibile dal momento che quando c'era la serie B il Como era in serie C O addirittura in serie D ho fallito E quando poi è tornato in serie B l'anno scorso L'anno scorso non c'era ancora la serie B su FIFA Quindi questa è la prima volta che ho realmente l'occasione di poter portare una carriera con il Como in serie B E sarà un progetto a cui tengo particolarmente Perché comunque è una squadra che seguo È una squadra che fa parte della città in cui sono cresciuto E quindi la conosco sicuramente meglio rispetto ai progetti esotici che di solito facciamo in altre parti del mondo Con la serie B quest'anno tantissime squadre mi stimolavano Avrei fatto volentieri una carriera con il Bari, Palermo, la Regina, il Frosinone Per non parlare ovviamente del Cagliari, Genoa, Venezia Forse proprio per questo imbarazzo della scelta sono contento che subito anche da parte vostra sia ricaduta la scelta sul Como Che mi abbiate richiesto subito una carriera con il Como Che io sfrutterò per aumentare ancora di più il livello di realismo Perché ovviamente conoscendo ancora meglio il background della città e anche la storia della squadra Posso aggiungere secondo me un ulteriore realismo alla nostra carriera Quindi il nostro realismo si baserà su alcuni punti Il primo è sicuramente quello di investire su calciatori italiani O comunque calciatori che giocano in serie B Tenendo però conto che non ruberemo dalle altre squadre i loro top player Per non impoverire la competitività della serie B Però sicuramente un mercato nella serie B va fatto Così come si potranno acquistare dei traghettatori dalla serie A O comunque giocatori che fanno panchina o tribuna in squadre di serie A Un'altra clausola è che si può prendere un massimo di due giocatori giovani in prestito dai top club della serie A Un po' come è successo a Fagioli con la Cremonese Poi un'altra clausola è quella di rispettare un po' la storia del club E in questo caso il Como ha avuto una parentesi molto fortunata negli anni 80 Dove era stabilmente in serie A e sfornava un sacco di giovani talenti che andavano in nazionale italiana E quindi si potrebbe ricostruire un po' questo percorso Che è anche scontato, no? Nel senso che chi non vuole investire sulla primavera e far crescere i giocatori Però c'è anche una traccia storica in questo Quindi manteniamo il realismo anche lì Il realismo poi si aggiunge anche di ulteriori clausole che conosco perché seguo il Como Quindi è più difficile fare un mercato realistico Considerando che il Como ha comprato Fabregas, ha comprato Cutrone, ha comprato Binks Ha comprato un difensore che giocava nelle divisi Ha preso un ragazzo che giocava nel campionato irlandese Quindi ha già una visione molto più internazionale rispetto a una squadra media di serie B Noi cercheremo di contenere un po' questa cosa per non acquistare ovunque Però una clausola Dennis Wise ci sarà Dennis Wise è, diciamo, la persona che si occupa del Como E c'era la quara clausola Cioè di andare a investire su giocatori scommessa in campionati di secondo livello Che però in questo caso vedete che ho un po' mischiato con il discorso che ho fatto prima E poi una clausola bonus su qualche giocatore del passato in cui ha giocato Fabregas Il passato in cui ha giocato Dennis Wise che è un ex giocatore del Chelsea Quindi, allora, prima cosa che possiamo notare è che il menù è lo stesso Quindi iniziamo con la presentazione con Brambilla futuro brillante Como futuro brillante come Brambilla alla guida Il menù è leggermente cambiato ma non stupiamoci nel senso che il resto non l'avranno cambiato Basta, eh? Abbiamo detto niente dissing oggi Andiamo a vedere le mail Ok, benissimo, le mail sono le stesse Non ce la faccio Andiamo sulla Coppa Internazionale Europea che giocheremo con la Cremonese, lo Spezia e il Burmouth Il mercato è aperto, benissimo, la dirigenza cosa chiede? Andiamo sugli obiettivi Crescita giovani Fai giocare almeno 50% di partite della stagione ad almeno un giocatore del Vivaio Acquistato nella prima stagione entro due stagioni Stagioni rimaste due, ok Fama del brand, 5 risultati positivi questa stagione Però è una serie di 5 risultati positivi quindi non è facilissimo Acquista un giocatore cruciali e ottieni un profitto di 5 milioni nella sesta stagione Successo in patria e conquista la promozione diretta Ecco, questo lo trovo un obiettivo tosto Perché sicuramente c'è stato un mercato interessante Un mercato fatto di, diciamo, fuochi d'artificio Però i fuochi d'artificio poi non ti dicono realmente la forza della squadra Successo continentale non c'è, molto bene Poi, primo resoconto, piacere Da parte di Vincenzo Santoro, piacere, benvenuto E qua arrivano... intanto arriva questo portiere svincolato ucraino di 23 anni Già io comunque lo seguo per non saperne che ne scrive E poi nel mezzo anche Lautaro Martinez e Abram Non è questo il giorno Qua per ora gli osservatori stanno andando In Italia, in Arabia Saudita, in Inghilterra e qua libero Allora, io richiamerei intanto il nostro caro amico trader da Dubai Beh, è stato bello, tra l'altro non è Dubai neanche quella Perché Dubai sarebbe negli Emirati e quelli invece è Arabia Saudita Vabbè Nel campionato svizzero Perché? Perché in Serie B voglio veramente pescare da campionati che hanno senso Campionati vicini o lo stesso campionato italiano Non mi aspetto già osservatori che vadano a cercare talenti in Argentina, in Francia, in Bundesliga Cioè, secondo me, un passo alla volta Quindi Italia, Regno Unito la teniamo perché andiamo a pescare magari i giocatori della Championship, dalla League One e dalla League Two Dobbiamo già assumere un altro osservatore Questa è la vera domanda Perché ovviamente il budget non è altissimo Sono 4.4 milioni di budget Quindi io posso a questo punto ipotizzare di aggiungere un osservatore magari a fine mercato Che non ha molto senso Magari aggiungere un osservatore all'inizio del mercato di riparazione Ecco, questo già avrebbe più senso Andiamo a vedere il vivaio Vivaio dove ho volontariamente tolto il talento locale Perché? Perché mi era uscito 70 di overall con potenziale 90-95 Una cosa che tutti sognano di trovare Ma nel nostro caso ho preferito evitare Perché 70 a 16 anni nella primavera vuol dire che è già uno dei più forti della prima squadra Vuol dire che diventa un 85-90 nell'arco di una stagione e mezzo Arriveranno poi da fuori a chiedercelo offrendoci tanti soldi E si rovinerebbe subito il rapporto, diciamo, livello della squadra budget Ok? Quindi l'ho allevato E ci sono rimasti Jordan Kent, Alex Wood, Owusu e Chabalala Allora, di questi io per momento scarto quelli che hanno un potenziale basso Mentre l'overall lo guardiamo in un secondo momento Dovete considerare che la Scent Entertainment ha rilevato il Como tre anni fa E l'ha rilevato da una condizione di fallimento Quindi quando una squadra fallisce la primavera non esiste più Non esiste più tutto quello che circonda la squadra Non vedo in questo momento il nostro osservatore della primavera Ecco, staff primavera è di qua Beh, hanno cercato di rendere ancora più complicato il menu Ci sono riusciti E mandiamo subito l'osservatore in Italia E io lo manderei per sei mesi Poi dopo vediamo, dopo i primi sei mesi, come ha lavorato Allora, in questo momento il Como ha tre portieri Tutti e tre poco conosciuti dalla piazza Quello che attualmente nella realtà sta giocando davvero È Simone Ghidotti Che sta anche dimostrando buone cose nella realtà Però qua nel gioco ha un totale di 50 È in prestito dalla Fiorentina Con ruolo squadra promessa Quindi non è grave anche se non dovesse giocare E poi ci sono Vigorito e Zanotti Che sono tutti e due con il contatto in scadenza Uno ha 32 anni, l'altro 28 Secondo me in questo caso Essendo appena arrivati Dobbiamo, diciamo, valutare con attenzione come muoverci Però preferisco avere un portiere forte E dietro Ghidotti Che non due portieri di medio livello Dove però nessuno ci garantisce proprio stabilità fra i pali Terzino a sinistro Nicolas Ioannu Ecco, questo è un terzino davvero interessante per la Serie B Giocatore cipriota che giocava a Nottingham Forest In prestito da Nottingham al Como l'anno scorso E poi quest'anno preso di nuovo Questa volta a titolo definitivo Sulla sinistra si è messi molto bene È un giocatore interessante È un giocatore dinamico, forte Che riesce a fare anche degli inserimenti offensivi interessanti Arriva sul fondo cross e mezzo Quindi è un giocatore anche da 3-5-2 volendo Poi abbiamo Cagnano Che sarebbe il vice Per il momento lo lascio lì Poi abbiamo Filippo Scaglia Difensore interessante Qua con la fascia di capitano Ma credo che la daremo a Fabregas Come abbiamo visto che gioca anche recentemente Per me può fare il titolare insieme a Binks In prestito dal Bologna Questo è un giocatore strabiliante Che tra l'altro ho visto su Transfermarkt Che ha lo stesso agente di Fabregas E questa cosa mi ha fatto un po' rizzare le antenne Perché ho detto Ah però Poi abbiamo Solini Abbiamo Odental Che è arrivato dal nickname che quest'estate Che però ha 21 anni Quindi si potrebbe investire su di lui È arrivato Delicarri 23 anni Quindi in realtà Odental, Delicarri, Binks Sono diciamo i tre giovani E poi abbiamo Scaglia e Solini Che sono un pochino più l'esperienza in difesa Mi sembra che la difesa sia messa abbastanza bene Interessante il ritorno dal Spezia di Vignali Che qua viene dato addirittura come Ada In realtà gioca più terzino nella realtà Però qua si vede che ha delle doti anche di spinta Che vedendo anche Ioannu Pensiamoci su Perché è vero che il Komogi gioca col 4-4-2 Però potremmo anche provare il 3-4-1-2 Che vedo che sta piacendo molto nel calcio moderno Nelle allenatori moderni vanno spesso sul 3-4-1-2 Poi abbiamo Parigini in prestito dal Genoa Che c'è stato anche l'anno scorso E ha fatto bene A volte Cioè diciamo Parigini è un po' pendolino Cioè va sia in difesa che in attacco In quello devo dire che dà sempre l'anima È arrivato Alex Blanco Che arriva lo scorso gennaio dal Valencia È sicuramente un giocatore che qua troverà spazio Sta facendo bene Chaya, ritorno dall'infortunio È un giocatore di grande qualità Abbiamo Massimiliano Gatto Che ha fatto davvero bene nel passaggio del Komodo alla CLB Poi ovviamente Seix Fabregas ruba la scena Perché è un giocatore con la sua esperienza Che ha vinto tutto Ha vinto Champions League Ha vinto il Mondiale Ha vinto due europei Ha vinto campionati col Barcellona Con l'Arsenal Con il Chelsea Però insomma Fabregas niente male Abbiamo Tommaso Arrigoni Baselli Che anche questo è un acquisto niente male Il prestito di Dariva da parte dell'Atalanta Per ora ha giocato una partita Dopo tre minuti si è fatto espellere Però qua siamo nel nostro salvataggio Quindi gli daremo ogni tanto qualche occasione in più E c'è Faragò Che benché abbia solo 67 di overall Secondo me è un giocatore prezioso Che ha giocato anche in Serie A Col Cagliari Quindi un giocatore secondo me Su cui possiamo fare affidamento ogni tanto Celeghin Bellemo Che l'anno scorso è stato fenomenale a centrocampo Quindi non dimentichiamocelo Jovine Che è un giocatore di gran cuore Terzino destro Molto molto valido Mi piace come giocatore È il classico giocatore Che tutte le tifoserie amano Kerrigan Interessante Non so quanto avrà di potenziale in questo gioco Però nella realtà secondo me è interessante come prospetto È un giocatore che trasmette simpatia Mancuso in prestito dal Monza Come traghettatore dalla BLA Con il ritorno a casa di Cutrone Lui che è Comasco Cherry dopo l'anno scorso Dove ha fatto una bellissima stagione Quest'anno ha iniziato un po' meno bene Però vediamo perché secondo me può diventare un giocatore prezioso Gabrielloni Altro giocatore fantastico Lo si vede dai numeri di maglia Quali sono i giocatori più presenti Cioè presenti da più tempo nel Cuomo Perché vedendo l'overall Non diresti mai di Gabrielloni E di Gatto Che sono giocatori da tenere Però fino a poco tempo fa Gatto aveva la 10 E Gabrielloni Ha la 9 Tuttora E ci sarà un motivo Perché ovviamente era il duo Che c'era in Serie C Quindi Anche qua da una parte rispetto per chi ha dato tanto Dall'altra Ovviamente adesso sono arrivati giocatori nuovi Però Gabrielloni sicuramente non lo tocco Magari Gatto Proviamo a vedere dove piazzarlo Più che altro perché a centrocampo vedo tantissimi giocatori Esagoni Questa è la parte che noi preferiamo L'esagoni Mancuso ci dice che comunque è buono in tutto È un attaccante Che può Diciamo Rendere bene in tutte le fasi Della partita Cutrone è un po' più affilato Un po' più Finalizzatore Cherry è un po' il girù della Serie B qua Con poca velocità Poco passaggio Però fisico e tiri ce li ha Può tornare utile Sapete quando? Quando vogliamo tenere davanti qualcuno Che faccia un po' spallate E tenga il risultato Qua a destra per il momento abbiamo Parigini Però vedete che o Parigini O Kerrigan Qua sembra il migliore Vignali Però è lì che ho il dubbio sulla formazione Perché a destra Cioè a sinistra scusatemi Blanco, Chaya Non si toccano Con Chaya che ha L'esagono a spaghetto Possiamo dirlo Ecco l'esagono un po' Non mi veniva Mi era venuto il nome subito Qualcuno mi aveva detto in chat la volta scorsa Chi è che ci ricordava come esagono? Ecco Chad Lee Bravissimo Il centrocampo al momento vedrebbe Fabregas Baselli Bellemo Poi Ioannu Va benissimo Binks va benissimo Scaglia va benissimo In una difesa 3 Subentrerebbe ovviamente Odental Qua avremmo Vignali Non lo so È una scelta difficile Io partirei dal Partirei dal 4-4-2 in linea Per il momento Poi dopo capiamo Metterei Capitano a Fabregas E andrei a preparare adesso la panchina Una panchina secondo me di lusso Con Cherry Primo sostituto Poi io metterei Che mi piacerebbe vedere ogni tanto subentrare Qua la panchina è sempre corta Impressionante Ma è la verità Metterei Faragossolini Poi Qua mettiamo Bellemo Subito Chaya Kerrygan Cherry Mi piace così E dopo aver fatto queste riflessioni Celeghin Si può mandare in prestito Dariva Appena arrivato in prestito Lo teniamo Arrigoni Da capire Se vuole stare in tribuna Per me va bene L'esagono Mi sembra abbastanza largo Iovine Soffrirei troppo A farlo partire Capiamo cosa fare E poi abbiamo Il duo della serie C Gabrielloni Gatto Dove Gabrielloni Lo teniamo Ma Gatto Adesso capiamo Perché è arrivato pure Kerrygan Quindi Vivaio Abbiamo già detto Per il momento Poca roba Attendiamo Ah devo fare i piani di crescita Del vivaio però Ma questo non è Tra l'altro non è un CDC Iniziamo ad allenarlo Terzino sinistro Però ha poca difesa Per essere terzino Ma scusate Quanto è alto Zabalala È un 89 Ma questo è difensore centrale Scusate Però ha poco In contrasto Non è niente In poche parole Non è niente No comunque Con quella fisicità È solo quella Ti alleno in difesa E va bene centrale Qua ci mette 8 settimane Alex Wood Per salire da 48 49 Ma ci ha messo un attimo A uscire dalla mia squadra Primavera Poi Trasferimenti Oh qua voglio arrivare Per lo staff Primavera Sta già lavorando Damiano Rossi Bravo Prima cosa che vogliamo Un portiere Vogliamo un portiere Da prima squadra Età A me va bene anche Che sia esperto Per cui per il momento Sto un po' sul chi va là Cioè Vediamo Io anzi per esempio Potrei togliere pure questo E mettere qua Il portiere promettente Cioè tanto all'inizio Non è che dobbiamo Stare a guardare molto Poi Io metterei Un terzino Promettente Da far crescere dietro O da prima squadra Promettente Però Poi Un esterno Un'ala Sicuramente Che io metterei Come veloce E dribbling Però forse Mettere troppe istruzioni Quando i giocatori Hanno poco overall Non ha troppo senso Sono tutti attaccanti esperti Io un attaccante promettente Lo vorrei vedere Il giocatore che vorrei Più di tutti Ragazzi È il figlio di Stankovic Che sta facendo Molto bene Al In Olanda Adesso non mi viene il nome Ma è il Volendam Ecco esatto E sono felice di vederlo Nel gioco Ovviamente è prestato Il primo anno Quindi non ce ne facciamo molto Adesso ci serve un portiere Pronto per la serie B Vogliamo vedere Qualche portiere Svincolato Sì Sugli svincolati Come sapete Ci andrei un po' Coi piedi di piombo Nel senso che Sono come dire Avere poi Come simbolo Della tua squadra Un portiere Che hai trovato Negli svincolati Secondo me Toglie qualcosa Cioè un portiere Un giocatore A prescindere da dove gioca È bello se lo vai a cercare Lo insegui E poi lo acquisti Cioè per esempio C'è Nyland Che è il portiere Della Norvegia Che è sempre Free agent ogni anno Però cazzo Prendere Nyland Mi sembra Tanto Ok Allora Fuzzato Sì ma ragazzi Allora Io non voglio riempire La mia hub Già di disastri Fuzzato è interessante Che è andato Alle Ivis 4 milioni e 4 Io vado a prendere Un altro osservatore Va bene da 250 E lo manderei in Belgio E qua per una ragione Particolare Era Belga Il giocatore Che io ho visto Per la prima volta Allo stadio Prima volta allo stadio Ho visto giocare Questo giocatore Che era belga Ma in realtà Di origini brasiliane Lulu Oliveira E mi piacerebbe Allora Mandare un osservatore In Belgio Per vedere Se possiamo trovare Il nuovo Lulu Celeghin Che aveva messo Che aveva messo sul mercato Arriva un'offerta Molto buona Che io vado a trattare Avanza Hanno accettato Mi sembra una cifra Già buona No? Nel frattempo Io Carius Ragazzi Carius Cioè Io non volevo Però è lì Cioè io volevo Sapete che io sono sempre Stato più Della politica Di Vito Mannone Però c'è Carius Che è lì Tipo Iwushic Secondo me Costa troppo Comunque Questi sono i portieri Che stiamo osservando Vedremo Chi la spunterà Fermi Attenzione Accompagnato alla porta Mi pare Questo è Celeghin Giusto Ma a parte che Siccome avesse una hall Così Niente Incredibile ragazzi Momenti di lacrime Cioè adesso è andato via Celeghin Ma quando andrà via Un giocatore Che ci ha dato tanto Cosa faremo Saremo disperati Questa è Una bellissima cinematica Ma a volte ci Distruggerà Questa cosa Valutazione prezzo B Ok grazie Potevo allora arrivare a una A Ne siamo consapevoli Ma andiamo avanti Grazie per aver valutato Il nostro operato Arriva un'offerta Dalle Avr Per Massimiliano Gatto E qua andiamo a fare Un lavoro Prepotente Allora abbiamo ancora Una settimana Prima dell'amichevole Con lo Spezia Vogliamo usarla Stasettimana Per me sì Qua arrivo a resoconto Su Adamonis 64 Vogliamo un portiere Che sia massimo 72 71 72 Resoconto Su Carius 72 Io Nocchio Glielo lascio ancora Mentre lo tolgo a Denis Franchi No perché Teniamo ancora Un attimo Teniamo ancora Ciabalala Da vedere come Difensore centrale 55 E tra una settimana Diventa 56 Che non è tanto Però Buttalo via Sì c'è anche il tema Dello stipendio Bravi Perché lo stipendio È chiaro che Sarebbe molto Molto più alto Di quelli che abbiamo adesso Mille Svilar 69 Lui però Andrebbe preso in prestito A questo punto Io opterei Per un acquisto Ritirata l'offerta Di Gatto Causa Mancata risposta In tempi brevi Mi sono dimenticato Di rispondere Cessione che però Qua mi viene chiesta Da parte del Norwich Per Filippo Scaglia Perché Perché lo volete Terrei Scaglia Per il discorso Che noi abbiamo dato La fascia A Fabregas Ma È il capitano Quindi Lo terrei Vito si sa qualcosa Vito quant'è 70 Vito Mannone Perché mi piace Vito Mannone Non c'è una ragione Vito Mannone Perché è stato il portiere Titolare dell'Arsenal Quando ci giocava Fabregas Ed è stato pure Al Monaco Gli ultimi due anni Quando c'era Fabregas È nato a Desio Che è pure Abbastanza vicino Intanto L'Amiant Su Massimiliano Gatto Andiamo a salvare Così ci dimentichiamo Anche stavolta Della trattativa Visto che hanno invertito Tutti i tasti Allora Qua abbiamo già Una chiara indicazione Qua cosa dicono Gli exit poll Dicono che Ivucic È sicuramente Molto interessante Però è il vice portiere Della nazionale croata Questo sto dicendo Vito Mannone In quello lo vedo più Come traghettatore Grazie a tutti Grazie a tutti.